ciao a tutti ragazzi oggi voglio far vedere quello che è successo nelle estrazioni stasera allora come potete vedere a milano allora innanzitutto mi scuso se ogni tanto tossisco un po perché c'è una tosse allucinante quindi ogni tanto cercherò di tossire meno ma se riesco perché sono veramente un po mal preso allora passiamo subito le cose toste allora 21 65 ambos secco milano 21 65 dagli programmi 12 ambi secchi di giorno allora i 5 metri l'altro giorno qua sopra perché sono cinque programmi in uno mi lascio i link in iscrizione sotto il video se volete acquistarli comunque 12 ambi secchi da giocare 21 65 qui eccolo qui ambi secco preso dal primo colpo dell'elaborazione precedente quindi ho già digitato tutto e niente questo è un buon risultato qui è uscito solo una battaglia e basta le altre non ha dato non si è sfogato molto quindi però comunque un ambi secco 21 65 è veramente tosto e niente adesso le altre che devo ancora controllare allora qui nelle quaterne niente 83 65 niente le quaterne di giovane l'altro lo stesso e qui l'80 napoli però anche qui nelle quaterne ambi in quartina 21 65 e guardavo se c'era un altro no perché a volte ce n'è anche due allora 21 65 qua 21 niente poi allora nei terni ricordiamo che 21 65 qui è sempre buono nel terno perché è un ambi in terzina comunque paga sui 80 euro ogni euro quindi è buono allora qui mostro il su sei numeri 21 65 perché i calcoli sono simili non sono uguali quindi come dico sempre vedete che qui gli altri non ci sono perché sono simili quindi qui sul su sei numeri però sempre positivo positivo allora devo ancora controllare tutto dei programmi del 18 lo voglio fare insieme a voi speriamo che la tosse mi sa carica sono un po' mal preso scusate ma dico la tosse non ho raffreddore ma comunque guardiamo le altre allora andiamo su il 10 e l'8 la digito insieme a voi perché devo ancora controllarle e quindi allora copia allora qui copia in colla con la speciale testo ok allora questa è la copiata per per quella di stasera del 16 allora vediamo un po' cosa è uscito allora ho uno il 65 no peccato il 25 madonna ragazzi come quello fanno apposta 36 ecco 36 qua e 38 niente solo uno madonna è meglio che non dico niente va perché sennò le superiore e poi iniziamo a poi iniziamo a allora qui nel 3 aver si viene niente vediamo un po' nel la prima anche se ci c'è scritto due fori allora ancora speciale allora il 74 25 niente il 2 niente madonna il 38 niente 31 e 19 sono solo due che arrabbia mi viene un nervoso poi mi tocca insultare quelli del mele che non dico niente allora andiamo un po' stasera scusatemi ma la tosse e tutto il resto è un po' un problema qui nemmeno vedi 5 niente 77 niente 65 niente e solo 55 il 7 niente l'1 solo 2 allora 75 e 1 che ne ha dato anche doppio oro ma no questo niente guardiamo un attimo superenalotto se c'è qualcosa ma non credo però non l'ho andiamo un po' ma allora no questo programma lo devo rivederlo allora 47 2 38 7 e 6 38 non ha dato niente allora va bene ragazzi scusate per la puntata che è un po' un po' così perchè secco per stasera tutto ci sentiamo i prossimi video sperano che siano ancora più vincenti comunque qui un po' secco e buono e niente ragazzi ci sentiamo al prossimo video mi raccomando cliccate sul like se volete se non volete attivate la campanella se volete se non volete iscrivetevi se volete se non volete e niente guardate le mie playlist ho fatto delle musiche ho fatto un sacco di cose potete vederle lì e niente i miei dipinti su john art gallery gianfrancosini su instagram e su facebook gianfrancosini john art gallery sono io potete vedere i miei dipinti potete vedere tante cose va bene ragazzi ci sentiamo al prossimo video vi saluto vi ringrazio seguitemi e alla prossima ciao a tutti grazie